Il rinnovamento qui è duplice nel senso che abbiamo riorganizzato la sede e questo voglio dire un effetto, che sia più agevole per chi viene qua da noi ed è giusto che venga in una bella sede funzionale e in particolar modo il rinnovamento sta anche nell'approccio che la CGL Retina intende darsi. Nuovi spazi ed area di rinnovamento in casa CGL. È stato infatti inaugurato il nuovo ufficio della FLC, il sindacato di tutti coloro che lavorano nei settori della conoscenza, dalla scuola all'educazione degli adulti, dall'università alla ricerca della formazione professionale e dell'alta formazione artistica e musicale. La FLC qui effettivamente tiene la bandiera nel modo di approccio con le persone che non svolge solo la funzione per così dire collettiva ma anche stando vicino alle necessità delle persone in particolar modo del mondo del precariato della scuola che è ancora purtroppo un esercito enorme. Presente al taglio del nastro anche la retina Gianna Fracassi, vice segretario nazionale della CGL. Io sono partita proprio da qui, dall'allora sindacato scuola, 21 anni fa, quindi non posso essere che felice se questa struttura della nostra organizzazione si rinnova, ha ampia le sue possibilità. Sì, è un bel viaggio e questo vuol dire anche che la nostra organizzazione è un'organizzazione dove dalla scuola, dai luoghi di lavoro puoi arrivare ad avere anche incarichi molto importanti all'interno della CGL e sicuramente a me è capitato così.